Nella notte un attacco missilistico russo ha colpito le città di Kiev e Kharkiv provocando due morti e diversi feriti tra qui dei bambini. L'Ucraina intanto lavora una nuova legge sulla mobilitazione militare che prevede un ruolamento di massa con la coscrizione internazionale all'estero e l'abbassamento dell'età militare. In proposito Zelensky ha parlato di un'azione giusta nei confronti di chi è impegnato nelle ostilità da molti mesi e ha bisogno di fermarsi e riposare. Il presidente ha poi invitato il suo popolo a non stancarsi della guerra per non perdere tutto quanto è stato conquistato fino a ora.